Non si parla di discriminazioni razziali, abbiamo addirittura letto proprio una persona che ha tendenze omosessuali diverse. Qui si tratta di precostituire e di tutelare la famiglia naturale come uomo coppia, uomo donna. Per tutelare, perché da questa tutela nascono delle tutele molto importanti come quelle del bambino che non deve essere costruito, prelevato e portato in una famiglia che non conosce ma deve essere nata dall'amore che è nato dalla naturalità, da quello che è l'uomo e la donna. Quindi c'è una tutela molto forte nei confronti del diritto del bambino che ha diritto ad essere educato da un uomo e da una donna perché quelli sono i principi essenziali della vita. Lo strano caso è che molte volte noi leggiamo sui giornali oppure vediamo anche nelle nostre famiglie che è morto il papà e il ragazzo ha dei problemi, è morta la mamma e il ragazzo ha dei problemi. Non si comprende bene invece perché oggi ci sia questa contro manifestazione. Quindi i bambini hanno diritto ad avere la mamma e il papà e quindi il disegno di legge Scalfarotto invece provocherà se passerà al Senato dei forti danni come quelli del reato della libertà di espressione. Quindi auspichiamo che anche questa nostra manifestazione, la metina, possa essere portata avanti e sentita come alle altre voci portate in tutta Italia, sentita fortemente e quindi anche dal nostro ministro ed evitare che questa legge passi. Vi ringrazio.